Che fine hanno fatto Alessio e Claudia? Di Uomini e Donne. Il pubblico di Uomini e Donne è sempre più appassionato sulle vicende degli amori e soprattutto sulle coppie che lasciano assieme il programma. Una di queste coppie è senza dubbio Alessio e Claudia perché dopo tantissimi litigi e battibecchi a sorpresa hanno deciso di uscire e viversi fuori come una vera coppia di innamorati. Ora in tanti si chiedono ma come procede tra loro la loro storia? Vi ricordate questa coppia? Se ne sono dette di tutto. Lui l'ha accusata di essere falsa. Lei invece troppo possessivo e addirittura di vedere cose che non erano per niente vere. Ma si vedeva che tra loro c'era un sentimento e infatti i due ragazzi sono usciti dal programma di Uomini e Donne e stanno vivendo la loro storia d'amore fuori dalle telecamere. E stranamente tutto procede bene e si può vedere proprio dal profilo di Alessio una foto recente che i due innamorati sono a Porto Cesario davanti a un'altalena a forma di cuore e sembrano veramente al settimo cielo. Vi ricordate cosa aveva detto Alessio a Claudia prima di uscire? Ti chiedo di ricominciare da zero. Di lasciare il programma con te e provare a viverci fuori. E così è stato. Chi non credeva in questa coppia si è dovuto ricredere. Perché se c'è amore c'è anche sentimento. Un sentimento sincero. Se vi è piaciuto il video mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate qui sotto il video i vostri commenti. iscriviti al canale